Bisogna essere un po' folli e bisogna partire da una cosa grande e bisogna pensarla, ma pensarla fino in fondo, perché quello è la trasformazione. Sì, ma noi stiamo vivendo questo vacillo, ma quello è e non può fare in altro modo. È noi che abbiamo la scelta e noi abbiamo la possibilità di scegliere. E qual è la possibilità di diventare un essere umano di professione? Cosa significa? Cosa significa essere umano di professione? Fare le cose. E anche se ci sono dei pensieri negativi, ma la chance è già passata o è già tutto troppo tardi, il silenzio non c'è più, tutto è nuovamente veloce. Eh, ma anche se ci sono queste nubi, io tento di fare ogni passo positivo. Siamo partiti in questa seconda fase, col Green Meeting Point con Michil Costa. E Michil Costa è un albergatore, un filosofo, un ecologista, ma dai dai capelli fino alla punta dei piedi. E perché lo è? Perché lo fa col cuore. È uno che dice che bisogna avere comprensione e penetrazione, che abbiamo bisogno di contemplazione per sopravvivere. C'è bene le cose. E bisogna essere responsabili. E lui tutto questo lo cerca, lo cerca di fare. E cosa ci vuole? Ci vuole tantissimo coraggio. Ci vuole coraggio nel prendere le scelte radicali e poi fare anche i passi. E la politica in questo periodo, ma la politica con un monarca abbiamo perso 30 anni. Abbiamo perso 30 anni che adesso potremmo essere più gioiosi. Dov'è la gioia? Nel capitalismo? Sicuramente no. È fallito. Ma che sistema allora? Ma i sistemi ci sono. Lui, quello che sta provando, è il bilancio del bene comune. Ma il bene comune, la comunità, la persona al centro. È lì di far emergere la magia e il potenziale. È quella anche la motivazione. È esempio? Non per tutti sicuramente. Però è sicuramente coraggioso. Tanto coraggioso. E per noi, nel Green Meeting Point, è uno che fa. E questo è bellissimo partire. La seconda fase dove iniziamo a fare i primi passi anche noi, con uno che fa. E fa come prank zappa, in modo fantastico e bellissimo. Io vi ringrazio. Vielen herzlichen Dank, Michil. Alles wie gehabt. Vielleicht, doch eher nicht. Vielleicht ist es leicht, mutig zu sein. Herzlichen Dank und schönen Abend. Ciao. Ciao. Grazie.